Tutto è iniziato ieri mattina quando Edward Antonioni, residente a Fano, si è recato davanti casa per ritirare il bidoncino dell'organico svuotato dagli operatori di Aset. Il contenitore però si era rotto, così ha contattato il servizio dedicato per avere informazioni. Gli è stato consigliato di recarsi al centro di raccolta differenziata in via dei Platani, dove avrebbe dovuto compilare un modulo per ritirare il nuovo bidone, ma qualcosa è andato storto. Gli ho chiesto, guarda, gentilmente, devo cambiare il bidone che mi hanno detto che mi devo presentare qua, mi ha detto sì, devi compilare questo foglio e ci presenti il Green Pass. E io chiaramente gli ho detto scusa, ti riempio il foglio e basta. Tanto il Green Pass ho visto che di fuori nella porta c'è scritto accesso consentito solo con Green Pass, quindi io... Sarebbe rimasto fuori? Sì, gli ho chiesto, mi passi il foglio di carta da riempire, poi io te lo restituisco e tu praticamente mi dai il bidone, facciamo così, facciamo, così io non oltrepasso la linea di entrata. E invece, ha proseguito Eduard, l'operatrice mi ha risposto che per riceverlo era comunque necessario esibire il certificato verde. Io, onestamente, il Green Pass ce l'ho per lavorare, ma mi rifiuto, mi rifiuto e mi rifiuto di presentarlo per ritirare un bidone che è un mio diritto, credo, al 120%, visto che Eduard Antonioni paga le tasse regolarmente, sempre entro nella trattata di scadenza, divide la carta, la plastica, il vetro, l'alluminio, tutto come volete. Quindi faccio tutto il mio dovere da cittadino e quindi io ho diritto di ricevere anche il bidone, credo, dal mio punto di vista. È vero che poi sono intervenute anche le forze dell'ordine? Sì, sono intervenute le forze dell'ordine, sono intervenute perché io, da libero cittadino, cioè che mi sento, per me le persone che mi chiedono una tessera verde per questo servizio, per me sono tutti complici. Quindi loro hanno chiamato probabilmente dietro questa frase o per altri loro interessi, l'operatore dell'Asia ha chiamato le forze dell'ordine e io sono stato molto felice che li hanno chiamati perché altrimenti li avrei chiamati io. C'è un messaggio che vuole lanciare? È una cosa che ho scritto questa notte perché non ci ho addormito un po' dalla rabbia su questa cosa. Di fronte a discriminazioni come quella appena raccontata, chiedo una sola cosa, di ascoltare il nostro cuore in queste situazioni e di andare oltre, oltre a queste restrizioni assurde e senza senso. Facciamolo per un quieto vivere e per la sovrivenza di ognuno di noi. Vogliamo veramente mettere un bidone di rifiuti di fronte alla nostra persona? Non credo proprio. Iniziamo a farci qualche domanda seria e le risposte le abbiamo già dentro di noi. Vi chiedo di portare questo esempio del bidone dei rifiuti in qualsiasi altro servizio dove chiedono questa infame tessera verde. Il bene e la luce ha sempre vinto sul male, dipende solo da noi quando farla brillare. Con affetto, Edoardo Antonioni.